ciao sono montellic il mio brand è la pace esattamente la pace e sexy come minimo e in questo canale io parlo di pace se tu guardi non capirai granché se non piccoli sprazi piccole cose ma a breve sono veramente pronto per cominciare a usare questo canale e spiegare bene come si può mangiare questo brand della pace di cui c'è una grande necessità ed è l'unica cosa che ci tirerà fuori da questo casino il resto sono chiacchiere ciao e buona giornata